L'ultima battaglia, alz, in pista, con i carissimi. Scendo in pista, doppio angolo a 36, se la scena di Giuseppe, amore su santa. Oppia numero 27, Don Esmairo, con il Palenziara. Oppia numero 31, il primo, il primo di Miettel della vita. Oppia numero 6, la sempre delimo, signori all'irrata. Oppia numero 12, Manca Carlo, non di scala. Oppia numero 3, Sisti Marco, Pinto, Amita Maria. Per amore, a Dio, Stefano, Bisicchiara. E con la doppia, vediamo, numero 45, spena da Giuseppe, Erzo. Andiamo a ballare, Francisco Canaro, dentro e l'altra. Ormè, stratificamico, tutto il tempo. Guarda, Erzo, la presa di Occiaio. Un giro di pista, ragazzi. Grazie. Un giro di pista, ragazzi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.